Quando si studia Guido Cavalcanti ci troviamo di fronte ad una realtà tragica dell'amore, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il poeta assiste impotente alla distruzione delle proprie facoltà vitali, ma dietro questo va considerato che c'è il pensiero di Aristotele, in particolare va considerata un'opera che è nota in traduzione latina, che è il De Anima, che tiene sicuramente presente Cavalcanti nel momento in cui descrive quelli che sono gli effetti negativi dell'amore sulla persona del poeta. L'opera di Aristotele era nota con il commento di Averroè ed era nota appunto sia ai filosofi che ai poeti. Non dimentichiamo che gli stilnovesti sono persone di cultura e quindi questo non deve sorprenderci, ma anzi ci offre la possibilità di ricostruire le coordinate del loro discorso. Nel De Anima si legge che l'uomo che può realizzare la propria felicità suprema lo può fare attraverso l'intelletto. L'intelletto garantisce all'uomo la conoscenza e questa gli assicura una forma di perfezione che addirittura lo rende simile a Dio. E quindi da una parte abbiamo l'intelletto, dall'altra invece le passioni, l'istinto, l'irrazionalità. Da una parte l'intelletto la ragione, dall'altra l'amore con i suoi effetti, con le sue passioni. E Cavalcanti è fortemente influenzato da questo pensiero. Per Cavalcanti l'amore travolge l'intelletto e l'io smarrisce la propria vitalità. Una sorta di spossessamento, di perdita. L'io non è più in grado neanche di pensare, ma questo ha alle spalle la conoscenza dell'opera di Aristotele. Chi causa tutto questo? La figura femminile. La donna è presentata sempre come portatrice di una bellezza straordinaria che però è anche alienante alla fine per il poeta. È caratterizzata da una luce radiosa ed è scritta nel suo incedere, nel suo sguardo, nel suo saluto. Ma la visione per Cavalcanti, la visione della donna, è una visione che provoca alla distruzione delle facoltà vitali. Significativa da questo punto di vista è la prima quartina del sonetto Tu mai si piena di dolor la mente. Cioè tu mi hai riempito la mente a tal punto di dolore che l'anima si briga di partire, cioè che l'anima si appresta a partire. E i sospiri che manda il cuore dolente, cioè i sospiri che emette il cuore dolente, mostrano agli occhi che non può soffrire, mostrano agli occhi che non è più in grado di sopportare. Una quartina interessante perché se la ripercorriamo insieme in ogni verso figura come agente un diverso attore. Abbiamo la mente nel primo, l'anima nel secondo, il cor nel terzo e gli occhi nel quarto. Ecco partiamo da questa quartina per capire quello che è l'effetto di turbamento che l'esperienza dell'amore determina nell'animo del poeta. Che cosa fa Cavalcanti? Cavalcanti distingue le varie componenti, la mente, l'anima, il cuore, gli occhi e li mette in gioco, li mette in campo, li fa interagire, li tratta come se fossero delle persone con una loro individualità. Agiscono oppure lamentano, comunicano la propria condizione attraverso un dialogo, come in questo caso che i sospiri del cuore mostrano agli occhi. Ma questo è un modo teatrale, se vogliamo, sono come degli attori sulla scena per dimostrare come l'amore agisca negativamente sul poeta. L'uomo alla fine risulta svuotato, non è più integro e privato della sua interiorità. E da ultimo il discorso si conclude con il riferimento ai deboletti spiriti che, in voi che per gli occhi mi passaste il cuore, leggiamo che van via. Perché parli di deboletti spiriti? Perché nella concezione medievale, nella fisiologia medievale, si credeva che gli spiriti si propagassero nel corpo e presiedessero alle funzioni vitali. Gli spiriti erano coloro che garantivano il funzionamento dei vari organi. Quindi sono collegati alla vitalità. Il fatto di dichiarare che i deboletti spiriti van via è un modo per definire come il poeta provi angoscia e si senta indebolito perché appunto abbandonato dagli spiriti che dovrebbero garantirgli la vitalità. E da ultimo può essere utile il confronto tra la concezione dell'amore angosciosa per cavalcanti, l'amore come un ostacolo alla felicità in termini aristotelici, e dall'altra invece la concezione di Dante per il quale l'amore rappresenta invece uno strumento di ascesa spirituale. Ma di questo parleremo più avanti.